Begni ed immobili per un valore di 1.200.000 euro sono stati sequestrati stamani dagli uomini della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Chieti nell'ambito di un'operazione volta a stroncare un vasto giro internazionale di sostanze stupefacenti. Commercio di droga messi in atto da un sodalizio criminale operante sul San Salvo e sull'area vassese contro il quale lo scorso 30 novembre sono scattati gli arresti in quella che è stata denominata Operazione Evelyn. I provvedimenti di sequestro sono stati eseguiti nelle province di Chieti, Campobasso e Foggia da parte di finanzieri e carabinieri dei rispettivi comandi provinciali su richiesta della Direzione Distrittuale Antimafia. Le indagini, durate circa un anno e mezzo, hanno consentito di portare alla luce un'organizzazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti dall'Albania e alla commissione di atti intimidatori anche attraverso l'uso di armi per garantirsi l'egemonia sulle principali piazze di spazio. Sono stati sequestrati, come già detto, 4 immobili, quote di 5 società, un'attività commerciale, il bar Evelyn a San Salvo e 19 autovetture per un valore complessivo pari a 1,2 milioni di euro con un profitto illecito stimato in almeno 600 mila euro. Con il sequestro dei patrimoni illeciti, la Procura intende colpire le organizzazioni criminali nel cuore dei propri interessi economici, patrimoniali ed imprenditoriali e restituire alla collettività i beni accumulati per finalità sociali.